Sanno dei valori qua, come il trattamento, come l'amicizia con i paesani, quindi non vuole andare via. Sanno dei valori qua, come il trattamento, come il trattamento, come il trattamento, come il trattamento. F står in riaz'e model, de subsidies zijn al stopgezet. Deze rechtsregering wil juist dat er zo min mogelijk migranten naar Italië komen. En daar past riaz'e niet bij. Hier op de muur staan nog alle nationaliteiten die hier in de straat wonen. Maar dat is binnenkort verleden tijd. L'hanno chiusi da pochi giorni ed era una situazione drammatica anche per il paese perché lavoravano più di 80 persone, di 10 esi, in più lavoravano anche gli emigrati. Do you think you will leave Riace? Yeah, because there's no any other option for us. We have to leave because before I was working in the laboratory, now the laboratory is also closed, no job. Sentiremo naturalmente una mancanza, un distacco da loro, che onestamente non è giusto mandarle via così.